Ischia Ponte come si prepara la Pasqua e che cosa chiedono i commercianti? Ne parliamo con il presidente del consorzio Ischia Ponte, Joan Giuseppe Lanfreschi. Buonasera, la Pasqua quest'anno viene presto, noi abbiamo iniziato in silenzio quel famoso progetto di cui abbiamo accennato più volte ma che avremmo piacere poi una volta che inizi realmente a decollare fare una presentazione un po' più ampia. Come dicevo iniziamo in silenzio, in sordina queste ristrutturazioni di alcuni locali, infatti già due locali hanno terminato la propria ristrutturazione mantenendosi nell'ambito delle linee guide che salvaguardiano i centri storici, un po' le linee di Ischia Ponte, riprendere le linee pulite di Ischia Ponte nonostante qualcuno spinto da qualche amministratore che detta anche le linee del colore di Ischia Ponte cerchi di alterare la semplicità di questi luoghi. Come dicevo in silenzio pian piano ci stiamo avviando verso una ristrutturazione che poi con tranquillità e senza clamori ma proprio nella semplicità per ridare dignità al borgo e quindi ad un centro storico ci stiamo avviando per questa ripresa di queste linee un po' pulite di riprenderci proprio il centro storico. È la nostra storia, la nostra cultura. Per tutto il resto speriamo che siamo, diciamo così, mettiamola sotto un discorso di fortuna, siamo più fortunati per quanto riguarda il discorso di parcheggio, per quanto riguarda il discorso del traffico e per quanto riguarda proprio tutto il resto dei discorsi perché vediamo il pontile che purtroppo è sempre più degradato e molte altre zone. L'ultima amareggiata addirittura ha finito di distruggere il muro di protezione lo stradone, lato mare, sto scendo la fogna o comunque il vascone completamente fuori, oramai è tutto alla luce, quindi speriamo che una prossima amareggiata in piena stagione turistica non faccia parlare Ischia di nuovo per altre cose. Abbiamo fatto le dovute segnalazioni, quindi ci auguriamo che essendo la stagione turistica e la Pasqua che venga troppo presto, ci auguriamo che subito dopo a cavallo della Pasqua si parta col buon tempo a rimettere tutto in un'altra parte.